Che onore, che onore, è che sono una chica veramente latina al cento per cento, figlia di papà italiano, mamma spagnola, è nata in Argentina, più latina di così non si può, l'allegria, i colori, la musica, la danza habitano in me fino a bambina, sarà l'esplosione, l'opportunità di presentare questo concerto il 19 giugno, dove siete ovviamente tutti quanti invitati a vivere un momento. un momento di passione assoluta, perché voglio proprio dimostrare una Lola che non è stata mai vista in Italia, o sea, è diverso da Sanremo, diverso da Notre Dame di Parisi, diverso da Emei Concerti Rock, è proprio la mia verità, presento anche l'anteprima, il mio primo simbolo che anticipa desnuda, il 25 giugno è Fori di me, che è il mio primo argom, come canta autrice, lo presento lì in spagnolo, in italiano, è un eroe anche, perché è stato con il mio migliore amore, che ha diventato una Gibson Dance Pool. mi accompagnata per tutto, sonero anche per voi, cantero, ballero e latino. questo è la storia di una donna, che a un certo punto la fanno arrabbiare, è talmente latina che si sdoppia, era buona, e diventa cattiva, allora va fuori di testa, va fuori di sé, va fuori di me, così si chiama. è molto interessante, perché noi donne ha vita questa cosa, io l'ho scoperta, le mie amiche, me stessa, mi hanno fatto arrabbiare l'attenzione, è proprio una cosa vera, molto rock, molto pop, molto latino.